ragazzi buona giornata siete collegati con corrido Renato Michiko che vi presenta lo shop di oggi domenica 18 luglio e andiamo subito a vederlo ragazzi ed ecco il band dell'armadietto di Ayo e Teo ragazzi per me il costo rimanente di questi tre oggetti perché la skin ce l'ho già che la skin è esperto ricognitore e 800 buba quindi il piccone fattucchiere svegliati le mot svegliati e le mot il mio mondo ragazzi 800 buba per me se no sarebbe 1.800 mentre la skin è indutta separatamente e 1.200 buba che è molto bella ragazzi ed ecco la bellissima aura ragazzi 800 buba merita merita shopparsela 800 buba l'uomo gilda 800 buba anche lui il piccone occhi di diamanti 500 il dorso decorativo 200 sacco d'oro e l'altro dorso decorativo catena dorata 200 fauci tenerone 1.200 buba ragazzi fauci comodone l'uomo 1.200 buba il deltaplano vela squalosa 1.500 buba il piccone di nuovo schiaffo dello squalo 500 buba e la copertura squalo 300 buba fanno parte tutti del set frenesia alimentare season 3 ragazzi ed ecco una skin molto bella istinto 1200 bubac abbinata al dorso decorativo bombola a reazione del set contro attacco ragazzi 1200 bubac per questa skin pattugliatura innevato 1200 bubac ragazzi abbinato al suo dorso decorativo cryo camera del set asso polare 1200 bubac ed ecco la serie di emot calcio al tappo 200 bubac dove matt 500 bubac per la season x segna punti 200 bubac e ordinaria amministrazione 500 bubac molto carina questo ed ecco il bundle di re james ragazzi 2500 bubac per le due skin i due dorsi decorativi e la schermata di caricamento e ovviamente gli incarichi ragazzi gli incarichi leggendari di level james e dorso del re 2.500 bubac altrimenti le skin sono venduti separatamente e quella di vendono sono venduti a 2.000 quella di level james con la corona e level james con 1500 bubac guardate molto bella ragazzi il deltaplano invece 1200 è un spettacolo anche il deltaplano il piccone leone anch'esso venduto separatamente 1200 poi il bundle zero colazzato guardate molto bello vabbè io ne posseggo già tre oggetti e mi rimane il deltaplano e posso shopparmi a 300 bubac e mi sa che me lo prenderò perchè viene in le due e poi il bellissimo pacchetto ascesa delle ombre i livelli 1850 bubac per scioparsi i 25 livelli di pass battaglia ragazzi vi auguro comunque una buona giornata mi raccomando mettete un like al video iscrivetevi al mio canale micicrow mi raccomando iscrivetevi intanto al mio canale micicrow attivando ovviamente la campanellina vi auguro una buona domenica e vi voglio un mondo di bene ragazzi buona giornata a tutti dal vostro